Ciao amici di Feedback Bianconero, benvenuti per questa nuova pillola. Oggi rispondiamo alle tante domande che sono arrivate sulla nostra pagina con riferimento alla partita Juventus-Napoli e alla decisione del giudice sportivo di dare la sconfitta a tavolino agli azzurri per 3-0 come da regolamento il menù 1 in classifica. Sapete bene, chi ci segue lo sa, che abbiamo prospettato le due possibili soluzioni ossia o questa che è stata adottata dal giudice sportivo oppure alcuna sanzione per il Napoli qualora la squadra azzurra appunto avesse avuto ragione in sede di reclamo. Innanzitutto il reclamo avverso la gara è stato dichiarato inammissibile e questo sarà importante poi in sede di corte sportiva d'appello ma lo spiegheremo nei giorni successivi. È dichiarato inammissibile il reclamo perché diciamo strumento idoneo a contestare delle gare disputate non gare non disputate, questa è la motivazione del giudice sportivo che comunque poi rigetta anche nel merito insomma quanto asserito dal Napoli ossia il Napoli ha invocato ex articolo 55 Noif la causa di forza maggiore. Cercherò davvero solo di spiegare la decisione del giudice sportivo e sempre con parole semplici in modo da poter chiarire il concetto a tutti. Causa di forza maggiore cosa significava? Semplicemente che il Napoli non è venuto a Torino per colpe proprie ma per cause esterne superiori nello specifico il provvedimento di un'autorità locale come l'AS che quindi hanno impedito agli azzurri la trasferta quindi non è una mancata venuta addebitabile alla squadra azzurra. Perfetto, questa era quanto sostiene in effetti la difesa del Napoli. Il giudice sportivo cosa fa? Chiaramente ha accesso a tutto il carteggio cosa che noi non possiamo avere quindi ci fornisce anche degli elementi che non potevamo conoscere in precedenza. Chiaramente do per buono tutto quello che ha scritto il giudice sportivo in merito con riferimento proprio alle tempissime quindi alla cronologia la scansione temporale delle PEC e delle mail insomma inviate tra la società Napoli Calcio e di fatto le AS di Napoli 1 e Napoli 2. Poi non ho capito bene perché sono state coinvolte entrambe però vabbè questo è un altro aspetto. Cosa ci dice il giudice sportivo? Innanzitutto con la nota dell'AS di Napoli 1, dipartimento di prevenzione che di fatto va in risposta alla quanto in effetti comunicato a mezzo mail dal responsabile sanitario e che fa riferimento alla positività si batibene di due dipendenti quindi c'è questa positività acclarata. Cosa ci dice la responsabilità nell'attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 è in capo al Napoli e alla società Napoli e pertanto questa azienda non ha alcuna competenza. Ripeto, non ha alcuna competenza, non ha alcuna competenza. Cosa vuol dire? Sta dicendo tu devi attuare, ti devi rifare in effetti all'attuazione del protocollo Covid previsto a circolare il Ministero della Salute 21 463 18 giugno 2020 come richiamato anche nel protocollo della Lega Calcio, FIGC e quant'altro. Attenzione, bisogna anche aggiungere quanto asserito in premessa dal giudice sportivo ossia lui non entra nel merito delle decisioni delle autorità sanitarie, statali e territoriali in questo caso è l'asile di Napoli perché non è questa la sede non è lui il giudice competente a valutarne la legittimità. Quindi salta completamente questo aspetto e giustamente direi. Poi chiaramente aggiunge un altro aspetto resta impregiudicato, lo dice proprio, integra impregiudicato l'attività di inchieste conseguenti esiti della Procura Federale. Cosa vuol dire? Ci sta dicendo in questa decisione, e lo vedremo, io non ho preso in considerazione l'aspetto della bolla quella è una cosa che valuterà la Procura Federale e poi sarà, diciamo, eventualmente compito il Tribunale Federale. Perfetto. Quindi qui stiamo parlando solo dell'applicabilità o meno della causa di forza maggiore al caso di specie. La prima nota dell'AS l'abbiamo vista, l'abbiamo letta. Seconda nota, AS Napoli 1 e per conoscenze inviata anche all'AS Napoli 2, 3 ottobre, perfetto, ricevuti i dati dell'indagine epidemiologica l'AS provvedeva a formalizzare l'indicazione dei contatti esetti che sapete che devono rispettare l'isolamento domiciliare che non vuol dire non poter andare a Torino, ok? Questo deve essere chiaro. E attenzione, cosa dice? Quindi nel rispetto, quindi provvedeva a formalizzare l'indicazione dei contatti esetti relative al caso accertato di infezione da Covid, perfetto, ricordando la necessità dell'isolamento domiciliare degli essessi in domicilio allo stato non precisato, questo è un qualcosa che in sede di indagini da parte della Procura federale potrà avere un grande rilievo, nel rispetto della circolare ministeriale 21 463 18 giugno 2020, destinata come noto, proprio come noto lo dice, è proprio chiarissimo, proprio alla modalità attuative della quarantena per i contatti esetti Covid-19, sport agonistici di squadra, attività sportiva, agonistiche, eccetera. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della quarantena soft, l'abbiamo detto mille volte i giocatori vanno in isolamento, creano la bolla, ok? I negativi possono giocare come stanno facendo tutti purché siano chiaramente negativi poi al test quindi fino a 4 ore prima dell'evento, della gara e poi tornano in isolamento domiciliare così sta andando avanti tutto il mondo insomma del calcio italiano e non solo, ok? Perfetto, la stessa ASI Napoli 2 il 3 ottobre 2020 manda sempre al settore sanitario del Napoli chiarisce semplicemente con una, se non sbaglio, con una nota, sì l'impossibilità dei contatti stretti di lasciare il territorio nazionale che non vuol dire semplicemente nulla nel caso di specie non vuol dire non poter andare a Torino perché Torino è in Italia lasciare il territorio nazionale non vuol dire lasciare Napoli non vuol dire lasciare la regione campania non vuol dire lasciare il loro domicilio non ha detto non potete uscire dal vostro domicilio non potete fare la partita quindi se questa era l'intenzione io mi sento di dire che non è scritta nel modo corretto senza chiaramente voler offendere nessuno cosa ci sta dicendo il giuce sportivo? che fino al 3 ottobre tutte le note comunicazioni dell'ASL intercorse quindi tra responsabile sanitario del Napoli tra la società sportiva calcio Napoli con le ASL quindi con le insomma autorità locali tutte non sono incompatibili con l'attuazione del protocollo previsto dalla serie A ma previsto soprattutto con l'attuazione della circolare ministeriale cui addirittura richiamano ci dicono non ho competenza devi seguire la circolare ministeriale quindi io fino a questo punto non rinvengo alcuna interpretazione diversa se volevano dire non potete andare a Torino la sto davvero rendendo semplice non era questo il modo ma non l'hanno detto adesso possono rilasciare tutte le dichiarazioni che voglio carta canta qui è chiarissimo è chiarissimo stanno dicendo puoi fare la quarantena soft altrimenti devono scrivere in modo diverso si va avanti quindi c'è compatibilità con la possibilità di sputare l'incontro addirittura sempre vi sono dei chiarimenti richiesti addirittura alla presidenza regionale e con una media del 8 ottobre del vice capo gabinetto ribadiva l'obbligo di isolamento dei contatti estetti nel domicilio indicato al competente dipartimento di prevenzione non vuol dire non poter andare a Torino ancora qui chi interpreta diversamente vuol dire che non conosceva la normativa la normativa consentiva la partita se volevano impedirla ok dovevano fare altro è quello che è stato fatto il 4 ottobre ossia ulteriori richieste di chiarimento da parte del Napoli quindi attenzione cosa notiamo in base a quello che sta dicendo il giugno sportivo che il Napoli ha continuamente chiesto dei chiarimenti io non so cosa c'era da chiarire perché a me sembrava tutto in linea con quanto era accaduto fino a quel giorno per le altre squadre di Serie A come si erano regolati gli altri così poteva fare il Napoli però ha chiesto dei chiarimenti poi ognuno farà le sue votazioni dopo chiarimenti si solleva il problema specifico della sostenibilità della trasferta a Torino per disputare la gara con la Juventus l'Asli Napoli 2 Nord io poi non so bene perché prima volta risponde l'Asli Napoli 1 poi risponde l'Asli Napoli 2 questo non ho tutti gli atti e non ho competenza in questo e mi astengo cosa ci dice? alle ore 14.13 del giorno previsto per la gara quindi il 4 ottobre ritiene non sussistenti le condizioni che consentono spostamenti in bene e sicurezza dei contatti quindi è chiaro in questo modo non consente al Napoli di andare a Torino quindi in questo caso ci sarebbe la causa di forza maggiore perché chiaramente c'è una disposizione dell'autorità locale che in questo caso risponda a una chiara domanda è chiara dovete anche sapere che la possibilità di spostamento è fatta chiaramente con mezzi privati insomma non è che si va con il mezzo pubblico perché bisogna quando vi è il caso di Covid soprattutto chiaramente garantire la bolla quindi mantenere il più possibile isolati anche i giocatori negativi per evitare che eventualmente nel caso siano in realtà contagiate e do essere emergere successivamente appunto la positività appunto al Covid bisogna evitare che possano contagiare altri soggetti terzi questo è normale quindi il provvedimento che anche questa volta fa seguito alla richiesta di chiarimenti in questo caso è connesso cioè va a connettere l'isolamento domiciliare con il divieto di recarsi a Torino questo lo dice chiaramente il giuce sportivo quindi questa è la causa di forza maggior invocata dal Napoli perfetto se vogliamo dire come stanno sostenendo molti che già dalle altre note era chiaro hanno solo specificato quello che era chiaro no non era chiaro niente era chiaro il contrario non dobbiamo scherzare se questa è la linea difensiva del Napoli io non credo ma se questa è la linea difensiva del Napoli chi sostiene questo sta sbagliando ma non perché lo dico io perché lo dicono le carte è l'ASL che ha sempre richiamato la circolare ministeriale ha fatto riferimento agli sportagonistici di squadra ha richiamato il protocollo FIGC addirittura ha detto non ha competenza nell'attuarlo eccetera se poi successivamente non so perché non so perché o perché era necessario questo poi dovrà accertarlo chi di dovere magari può essere vista una violazione della bolla e quindi ha disposto il divieto non lo so non lo so e lo dovrà verificare la procura federale allora il prima sicuramente non ha vietato niente quindi anche se il Napoli fosse andato a Torino non avrebbe rischiato nulla sotto nessun punto di vista perché avrebbe attuato la normativa successivamente chiaramente se dice non puoi andare c'è il divieto vai a violare un provvedimento dell'autorità locale e quindi te ne assumi le responsabilità e paghi le conseguenze in questo caso ci sarebbe la causa di forza maggiore perché il giudice non l'ha applicata semplice perché ci dice un qualcosina che non potevamo sapere ossia che il Napoli aveva praticamente già disdetto il volo vediamo se recupero il punto dunque la prestazione sportiva da parte del Napoli era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile anche sotto il profilo logistico organizzativo quindi cosa ci sta dicendo poiché aveva in effetti il Napoli disdetto la sera prima il volo ok alle 14 e 13 aveva già rinunciato diciamo ad andare a Torino alla gara quindi non puoi invocare questa causa di forza maggiore sto spiegando solo quello che ha detto il giudice sportivo perché la causa di forza maggiore in questo caso non è quella che ti ha impedito di andare perché tu già avevi rinunciato ad andare a Torino questo ci sta dicendo già ti hai rimesso nelle condizioni di non andare quindi che l'ASD te l'abbia poi dopo vietato per me non cambia nulla avevi interrotto in effetti insomma diciamo la sequenza degli eventi è questa e quindi già ti hai rimesso nella impossibilità di andare a Torino è come se faccio un esempio banale io devo andare a Torino con un aereo ok ho prenotato il ristorante però poi decido di non andare a Torino non ho il ristorante prenotato ma se non voglio andare a Torino poi è colpa mia insomma fondamentalmente perché sto dicendo questo perché il Napoli reclama di dire insomma da quello che ho letto di aver prenotato dei tamponi hai prenotato il bus ho capito ma che tu hai prenotato i tamponi a Torino oppure avevi già il bus pronto all'aeroporto ma hai disdetto il volo e voglio dire è come se ho appunto il tavolo prenotato al ristorante ma poi straccio il biglietto dell'aereo e non posso andare per colpa mia insomma non perché chiude il ristorante anche se il ristorante dovesse chiudere io già me ero messo nell'impossibilità di andare ho banalizzato tantissimo spero però che magari l'esempio possa essere servito dunque cosa ci dice il giudice quindi secondo il giudice dopo le 2.13 del pomeriggio il Napoli logisticamente non poteva organizzarsi per andare a Torino non vi erano i tempi dobbiamo considerare chiaramente non è che partiva dopo 5 minuti bisogna vedere innanzitutto dove erano i giocatori e dovevano essere chiaramente raggruppata la squadra partire con mezzi auto insomma privati perfetto organizzare anche i tamponi e tutto questo poi è un aspetto che credo sul quale batterà la difesa del Napoli credo che per invocare la causa di forza maggiore dirà noi avevamo ancora il tempo di andare a Torino e quindi la decisione dell'ASL è stata la causa di forza maggiore per cui non siamo andati a Torino il fatto che abbiamo disdetto il volo la sera prima non cambia niente perché potevamo tranquillamente non so andare con un volo privato e arriviamo in tempo per la partita questo poi è un altro tipo di valutazione sicuramente è un ragionamento molto più sensato rispetto a quello a chi dice che l'ASL e anche io ho letto anche dichiarazioni ma non sto qui a commentarli chi dice che l'ASL aveva già risposto con l'isolamento domiciliare il blocco dice una sciocchezza non perché lo sto dicendo io perché lo dice la normativa o meglio l'isolamento domiciliare è un blocco per il comune cittadino non per i calciatori per i quali era prevista la quarantena soft da circolare ministeriale si badi bene richiamata la sesta ASL questo è il punto focale cioè non lo sto dicendo io l'hanno scritto loro sono loro che lo scrivono su questo non c'è discussione cosa ci dice il giurisportivo che questa forza esterna ossia il provvedimento dell'autorità locale diventi rilevante perché il Napoli ha rinunciato insomma ab origine all'evento e quindi va anche nel merito di fatto rigettare il reclamo tra l'altro resta impregiudicata l'attività della procura federale in relazione alla bolla sapete benissimo chi ci segue lo sa ma io ho sempre detto che era dirimente la verifica e continuo a sostenerlo attenzione la verifica della violazione o meno della bolla quindi dell'applicazione del protocollo covid in modo preciso da parte del Napoli perché è chiaro che se l'ASL poi bisognerebbe fare due domande all'ASL perché innanzitutto ha fatto quelle prime note dove tutto lasciamo intendere tranne di stare bloccati a Napoli e perché dopo nel chiarimento non potete andare a Torino quindi c'è discrasia tra le varie note se volevi indicare alto con le prime comunicazioni allora lo hai scritto nel modo sbagliato a mio giudizio ma mi sembra abbastanza insomma comprensibile l'italiano se invece hai bloccato il Napoli in seconda battuta lo hai bloccato domanda io non posso saperlo perché hai verificato una tardiva applicazione della bolla una violazione della bolla e quindi c'era questo pericolo allora qui lo scenario cambia tantissimo il Napoli rischia addirittura altre sanzioni che non sto qui a quantificare per il momento ma rischia altre sanzioni perché se la procura federale ha certo io non posso saperlo ulteriori violazioni ossia la non applicazione immediata della bolla o la violazione della stessa parte del Napoli io credo che la storia non finisca qui e in questo caso continuo a sostenere che non è più importante il discorso chiaramente della causa di forza maggiore dell'aereo disdetto meno è completamente secondario è un discorso con importanza minima rispetto alla bolla perché se l'asla ha disposto questo perché ha violato la bolla e questo dovrà emergere se questo è il motivo o l'ha disposto di tua spontanea volontà non lo so ma se l'ha disposto per questo non puoi invocare assolutamente la causa di forza maggiore perché sei tu che l'ha insomma è causato dall'impedimento so che è un video lungo però spero in questo modo di aver dato davvero tanti chiarimenti ho semplicemente spiegato la decisione del giudice sportivo credo di aver fatto pochi commenti ma più che altro di aver spiegato la situazione poi magari durante le dirette chiariremo meglio alcuni aspetti chiaramente potete fare domande commentateci se avete dubbi siamo qui per rispondervi un abbraccio da Feedback Bianconero ciao 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 ciao